eccoci pronti con i biscotti e ora vogliamo un po' fregare proprio una salle rilasciamo un po di biscottini la carota per le rene un bicchierino di latte questo è per Rudolf è minuscola e il latte così Papa Natale mangia si riposa due secondi beve riparte e forse perché siamo state talmente brave ci lascia forse un regalino in più che dici noi te? si te lo lascia? vai prendete due biscotti per ognuno dai scegliete biscotti da prendere sono asciutti mamma è ancora un po' non sono asciutti mamma mia sarà contentissimo è Babbo Natale a vedere questi bellissimi biscotti e mangerà tutti eccoci qua ragazzi mettiamo tutto nel camino avete messo anche disegni avete fatto? si bellissimo almeno appena scende troverà queste bontà e si spera che riempirà tutti i regali perché noi i regali ce li ha portati l'elfo giorno per giorno abbiamo trovato tutti questi pacchi però ora deve passare come funziona ora Sofì? sono vuoti se abbiamo fatto le brave quando la natale passa e con una magia gli fa di riempire di giochi e con una magia gli fa di riempire di giochi ma che state facendo? mamma mia bisognerebbe metterci la neve su queste scale buon Natale buon Natale dove andate bambini? aspetta Sofì! che è successo? a mangiare? tutto? ma quindi sarebbe passato? e dici? bambine insomma via lo scarto pronti 1 2 3 via questa è la colla per la 3d allora c'è la penna 3d guarda questa è la colla noi che cos'è sai cos'è la lavagnetta per disegnare che cos'è noi faso di masce e osso che bello mamma mia guarda la cos'è è questa fa vedere sofi mamma mia e te noi wow i di do questi canini si devono lavare si devono disegnare polliciacchi quanto tu vuoi e pollicolori quanto tu vuoi il karaoke il karaoke il karaoke no con il microfono ma questo è da cosa che cos'è il passettino che cos'è sofi dove la disegnare no bella no 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 wow questo è per fare i dipinti proprio più sciocche no 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 oh ma è enorme eh infatti nooo ti vederà ti vederà nooo mamma mamma la resta ti lascia fammela vedere mai più gradi di te wow è bellissima si ma sono diversi ma sono diversi sono diversi cari 25 i i d i i i Grazie a tutti.